Questa fine che ve l'ha fatto poco, io non c'è, ma vale la sua. Io ritengo che l'ombre del giorno possa essere modificata ampiamente. E dirò in che termine. Vi presento la proposta che faceva l'indice Germino. Non un genio rimandante a ridurre un periodo di censura, perché io credo che possa essere fatto subito. Se siamo d'accordo, siamo d'accordo. Io dicevo, nel discorso del deliberato, indicavo tre punti, il terzo è di non già che si può eliminare, di inviare la domenica scena della proposta dei conti, ma non lo adottiamo perché si tratta di sicuramente via dell'autore, perché la competenza del Consiglio non ci sono. Ma come è scritto? Non è un dirato che non è un dirato che la transazione è un altro. Complesso. Non è rilasce fino a quando. La transazione come contratto è un'opera di competenza del Consiglio. Sì, però ovviamente come sono le condizioni delle frequenze. Mi provano cosa. La transazione come contratto è un altro di competenza del Consiglio. Comunità, perché è spessamente ascritta in materia dei contratti alla competenza dell'Aggiunta. Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, quindi le frequenze finanziari, gli aspetti relativi al contratto di servizio, ovviamente queste sono matemiche di competenza del Consiglio e quindi l'efficacia complessiva è subordinata all'approvazione per quanto di competenza del Consiglio.